Le previsioni per quanto riguarda la giornata di sabato vedono una pregua, quindi con una giornata all'insegna delle dubbi e delle schiarite con anche spazi di sole. Il peggioramento arriverà nel corso del tardo pomeriggio e verso la sera quando i seri si copriranno e cominciano a cadere i primi fiocchi in serata. E poi la neve continuerà a cadere per tutta la notte su domenica e per tutta la giornata di domenica. Qualche residua nevicata è possibile ancora nelle prime ore dell'alba di lunedì. Ecco, quindi la partita Atalanta-Roma potrebbe essere a rischio? Stando, se le previsioni vengono confermate è assolutamente, se non si opera in anticipo con delle misure che tutelino il campo, molto probabilmente non potrà giocarsi. Direi che per la prossima settimana questa depressione mediterranea che è alimentata dall'aria artica continentale andrà gradualmente colmandosi, quindi la situazione andrà migliorando. Non ci attendiamo un'alta pressione, quindi belle giornate di sole, ci attendiamo ancora il sole che giocherà con le nubi, ma le temperature saranno in aumento e tenderanno a superare le medie del periodo. Ricordiamo che per l'ultima decade di febbraio, i primi di marzo sono oltre i 10 gradi, quindi adesso veniamo da alcune giornate con temperature sotto i 5 gradi e andremo sicuramente intorno ai 10-12 gradi a regime nel corso della settimana prossima.